Banca Etica, la banca del terzo settore, festeggia 15 anni dalla nascita. La banca, che conta in Trentino 500 soci, sul totale nazionale di 37.000, è nata a Padova nel 1999, su impulso di migliaia di cittadini e di 22 organizzazioni del terzo settore. Oggi conta in tutta Italia 17 filiali e 25 uffici di promotori finanziari chiamati banchieri ambulanti, a Trento, in via Milano 41. Dal 1999 Banca Etica ha erogato crediti per 1 miliardo e 800 milioni di euro a favore di 23.800 famiglie e imprese sociali. Perché è nata 15 anni fa Banca Etica? Banca Etica è nata per dare risposta a tutto un mondo del cosiddetto no profit, del privato sociale, delle cooperative sociali, delle associazioni, delle organizzazioni legate a difesa del terzo ambiente che avevano necessità di avere un credito, un finanziamento e avevano una certa difficoltà di incontrare ad averlo dal sistema classico tradizionale delle banche. E quindi tutto questo movimento denominato terzo settore si è raggruppato e ha dato vita alla Banca Popolare Etica. A fine anni 90, guardando la vostra iniziativa, vi descrivevano come dei sognatori, come delle anime belle. Sì, beh, all'inizio l'atteggiamento era veramente di una grande sfida, costituire una banca. Poi un po' alla volta, passo per passo, girando l'Italia, conoscendo questo enorme movimento di persone, stiamo parlando del 2% del PIN nazionale, di 320.000 persone che ci lavorano su questo, si è capito che avevamo la capacità, le forze, le energie, la professionalità, ma anche di costruire una banca diversa, diversa non solo nel senso che dava credito, ma anche che sapeva ascoltare i problemi della gente e cercare di dare una risposta con un finanziamento. In Trentino la vostra idea di Banca Etica ha subito preso piede. C'è molto Trentino anche nel successo della vostra iniziativa? Ma assolutamente, nel DNA di Banca Etica c'è molto Trentino, perché non abbiamo inventato assolutamente niente. Cioè la cooperazione trentina abbiamo solo nell'epoca della globalizzazione, attualizzato con il concetto di Banca Etica che opera a livello nazionale e anche internazionale, diciamo una banca che possa sostenere i cooperatori e il mondo della cooperazione. Chi beneficia principalmente dei vostri finanziamenti? I finanziamenti sono dedicati ai quattro settori storici della banca, la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale, il mondo dell'associazionismo, il mondo che si occupa della tutela ambientale. Da tempo operiamo inoltre con i soggetti che si occupano di agricoltura biologica e abbiamo circa un 20% dei finanziamenti concessi a favore di investimenti per le energie rinnovabili. Anche le grandi banche si fondono e danno vita a gruppi sovranazionali. In questo scenario come fa la piccola banca etica a sopravvivere e anzi a crescere? Gli elementi fondamentali dello sviluppo della banca sono la trasparenza, la massima trasparenza che ad esempio si concretizza nella presenza di tutti i finanziamenti che vengono concessi sul sito in modo che chiunque possa avere chiara e tracciato il percorso che fa il denaro dal momento in cui entra in banca etica. L'altro elemento che riteniamo fondamentale è la forma cooperativa, una forma che garantisce ampia partecipazione da parte di tutti i soci. Questi due elementi, trasparenza e partecipazione, riteniamo siano degli antidoti molto forti rispetto alla crisi. Abbiamo comunque anche un network di banche a livello internazionale, banche che si occupano di sociale e per cui abbiamo anche delle attività sull'internazionale. La prossima filiale di banca etica la apriremo per l'appunto a Bilbao in Spagna. Grazie. Grazie. Grazie.